A causa della possibile presenza di borseggiatori, si invita la clientela a prestare la massima attenzione ai propri oggetti personali, in banchina e a bordo dei trechi. Due to the possible presence of pickpockets, we advise passengers to pay attention to their personal belongings both on the platforms and on board the trains. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.